è con noi melania mazzucco grande nome della letteratura italiana allora melania la tua prosa è una delle più ricche ed eleganti della narrativa italiana spesso povera di contenuti e di stile come ha fini la tua scrittura romanzo dopo romanzo io sono torrenziale il momento in cui scrivo una prima versione ho bisogno che un libro esca sgorghi un po come l'acqua dove c'è la sorgente e quindi le mie prime versioni di solito sono qualcosa di abbastanza grezzo e tumultuoso e poi ci lavoro molto lo rileggo tante volte comincio a tagliare faccio un'operazione di scorostatura oppure se visto che in questo periodo mi sto occupando tanto d'arte in fondo l'arte mi accompagna sempre è un lavoro più simile a quello che fanno forse gli scultori no con una massa riuscire a far emergere da un blocco di pietra la figura per me è importantissimo il ritmo sono importantissime le parole gli aggettivi che a volte vedo denigrati invece per me sono enormemente importanti i verbi tutto importante e la cosa più importante in assoluto forse il ritmo perché ogni romanzo ha un ritmo diverso deve avere un ritmo diverso a seconda della storia che racconti e questo è qualcosa che capisco e creo soltanto nella fase della scrittura ecco hai nominato l'arte è un altro dei tuoi interessi hai anche scritto un saggio su tintoretto e recentemente hai analizzato alcuni capolavori dell'arte collaborando con un periodico come è nata questa passione e come la affianchi a quella per la scrittura è nata guardando così come quella per la letteratura per me è nata leggendo sono stata una spettatrice di opere forse perché sono nata a roma una città ricca d'arte in cui tu puoi incontrare bellezza ovunque ti trovi anche se poi come tutti i romani e gli abitanti delle grandi città storiche spesso noi ci sentiamo in esilio dalla nostra città perché magari nasciamo in periferia e quindi ci accorgiamo soltanto dopo i 16 anni diciamo quando cominciamo a muoverci nella città di tutto quello che ci circonda e ho cominciato così quindi guardando facendomi domande cominciando ad associare le cose che amavo chiedermi chi è che le aveva fatte quando e perché poi all'università ho studiato anche arte benché io sia soprattutto una contemporaneista sia nell'arte che nella letteratura e la mia passione invece per l'arte classica quindi per il nostro rinascimento in particolare per Tintoretto è nata è nata dopo è qualcosa che mi sono andata a cercare come credo che siano poi tutte sempre le grandi passioni è qualcosa che alla fine non ti viene insegnato ma che sei tu che vai a strappare e lì è nato guardando un'opera di Tintoretto a Venezia nella sua nella sua chiesa nella sua città e da allora è stato un incontro con un artista un uomo che non ho più lasciato un altro dei tuoi interessi appunto quello per il cinema hai anche frequentato il centro sperimentale di cinematografia di roma ti sei diplomati in sceneggiatura e da uno dei tuoi libri è stato tratto un importante film un giorno perfetto ecco quando scrivi un romanzo hai già in mente un'eventuale trasposizione filmica il cinema è l'altra grande passione che ho coltivato da sempre e poi ho anche studiato effettivamente negli anni dell'università ho frequentato anche il centro sperimentale di quegli anni del cio studiato sceneggiatura al centro sperimentale però erano anni c'era l'inadbert muller che era la nostra direttrice e c'è dato la grande possibilità di fare un lavoro artigianale di bottega mandandoci letteralmente a scuola dai grandi maestri quindi ciascuno di noi andava a lavorare ad affiancare un grande sceneggiatore sono i grandi sceneggiatori che hanno fatto il cinema italiano la grande commedia l'italiana o avevano lavorato con pasolini o visconti o de sicca e quindi noi abbiamo un po' imparato sul campo che cosa voleva dire scrivere una storia e chi studiava invece regia andava direttamente a fare film fare gli assistenti sul campo questa è stata un'esperienza di vita ancora più che di cinema veramente bella rara che io considero un grande privilegio non so se ho una scrittura cinematografica perché poi mi raccontano gli amici registi quando si mettono a cercare di trarre una sceneggiatura poi da un mio libro ci si accorge che forse sono libri soprattutto visivi perché io scrivo per immagini effettivamente e dunque chi legge vede e dunque immagina e poi nel momento in cui c'è il passaggio al film ovviamente qualcosa di diverso fino adesso io ho scelto di non partecipare poi alla fase di realizzazione dei film tratti dai miei libri uno si è realizzato altri non si sono realizzati ma comunque hanno avuto una lunga vita per esempio ha avuto una lunga elaborazione per il momento mi piace scrivere le storie vederle non vederle però nel senso che mi immagino gli attori ecco questo magari no però nel momento in cui immagino dei personaggi ho bisogno di vederli dentro di me per poterli far vedere anche a chi mi legge e fino adesso ho preferito poi che chi decideva di trarre una storia un film da una mia storia fosse libero gli davo in adozione in un certo senso la creatura perché la plasmasse come come giusto che sia perché credo che poi nel cinema è il regista che dà il tono del film che sceglie anche soltanto scegliere come si veste un attore vuol dire fare fare dare senso all'immagine che fai vedere e questo uno scrittore lo fa invece mentre scrive la sua storia perché è lui che taglia monta illumina fa le battute scrive il dialogo dunque credo che lo lo scrittore sia un po già il regista della sua storia e allora mi riesce difficile poi andare a scrivere direttamente quella storia per per il cinema fino adesso però non mi piace mai fare affermazioni apoditiche perché magari fra fra tre anni ho cambiato idea in questo momento la penso così ho nominato il tuo libro vita e in questo romanzo è scritto quanto è attraente una donna ignara della sua bellezza vita non ha fiducia nel suo fascino perché non lo conosce ecco le donne in questo periodo sono spesso al centro della cronaca purtroppo si tratta quasi sempre di quella nera si parla anche spesso di quote rosa per combattere la violenza contro le donne sono nate anche molte iniziative di carattere letterario secondo te sono sufficienti o è necessario intervenire in altri ambiti per migliorare effettivamente la situazione si naturalmente io nel 2005 pubblicato un romanzo che si chiamava un giorno perfetto che aveva al centro proprio il tema della di quello che poi diventato lo stalking oggi c'è una parola per dirlo nel 2005 non c'era e la violenza sulle donne c'è un ex marito che perseguita la ex moglie e decide di vendicarsi su di lei utilizzando poi i loro bambini era un romanzo incredibilmente attuale anche nel 2005 purtroppo oggi lo è ancora di più perché perché sono nate le parole per dire le cose e per questo credo che sia importante per noi scrittori scriverne e per chi fa informazione parlare perché questo può aiutare anche le donne che invece sono vittime di una situazione del genere a capire che non sono sole che quello che succede a loro non è non è qualcosa che riguarda soltanto loro ma magari succede anche la sua vicina di casa solo che non si sa perché nel silenzio delle case la violenza spesso resta nel silenzio delle case quindi credo che sempre parlare sia qualcosa che può aiutare ed è utile quello che possiamo fare noi come scrittori è riuscire a raccontare attraverso le storie delle verità e quindi chi ti legge riuscire a provare a capire capire le cose credo che la letteratura faccia faccia questo insomma hai scritto anche lei così amata un romanzo documentario su Anne-Marie Schwarzenbach figura femminile molto forte secondo te esistono anche al giorno d'oggi figure femminili così forti? sì anzi oggi forse cominciano a mancare dei modelli maschili ai ragazzi perché nello sport nell'alpinismo nella medicina nella ricerca ci sono delle figure femminili anche italiane straordinariamente importanti degli esempi di cui una ragazza di oggi ha bisogno e forse cominciano a mancare gli altri quello che è paradossale è che tutto questo accade in una società che è molto più avanzata di quello che sembrano per cui ci sono delle realtà femminili ovunque nel lavoro nelle professioni molto di grande eccellenza mentre poi invece la società nel suo complesso si dibatte ancora con le tematiche per me quasi medievali insomma per cui sento dire delle cose che mi sembrano superate da cento anni e trovo assurdo perfino che se ne debba ancora parlare però mi sembra che le cose sono cambiate molto solo che se ne accorge chi fa le cose e all'esterno si ha l'impressione invece che il mondo sia fermo ma non lo è anche in limbo racconti la storia di una donna un maresciallo degli alpini reduce dalla guerra in afghanistan quello che però mi colpì di più quando acquistai il libro fu ovviamente la bellissima foto di copertina che ritrae due bambine come hai scelto quest'immagine e chi rappresenta ci siamo chiesti insieme con la casa editrice che cosa volevamo mettere nella copertina di un libro perché un libro un libro di carta naturalmente un ebook poi ci dovremmo capire come come diventeranno le cose però un libro di carta è qualcosa è un oggetto in cui ogni cosa ha un senso no quindi dal modo in cui tu metti il titolo alla fotografia che scegli comunichi un messaggio allora cosa volevamo far vedere non volevamo far vedere una donna indivisa nonostante il romanzo sia la storia di una donna indivisa non volevamo far vedere un'immagine di guerra anche se il romanzo parla anche della guerra volevamo far vedere soprattutto ciò che succede a chi sta in un paese in guerra e quindi gli occhi di questa bambina afghana ci sono sembrati straordinariamente interrogativi è uno sguardo che ti fa ti pone delle domande la prima domanda è cosa ci fai tu qui perché ovviamente chi fotografa questa bambina è un bianco un occidentale tra l'altro un grandissimo fotografo perché è Jim McCarty l'altra domanda è quanta sofferenza ha visto questa bambina e come diventerà grande cosa resterà quando diventerà grande di lei e nello stesso tempo è scattato come una sensazione perché quella bambina in realtà è anche la protagonista cioè anche Manuela è anche una ragazzina italiana è anche una ragazzina italiana che ha avuto un'infanzia difficile perché le guerre poi non sono soltanto quelle dei luoghi in cui cadono le bombe ma sono anche luoghi devastati dal disamore magari dalla sopraffazione a volte anche dalle condizioni economiche difficili il romanzo tutto il romanzo parla anche di questo cioè non solo della guerra reale ma anche delle guerre più silenziose che si che si combattono ogni giorno anche in Italia e quindi quell'immagine un po' ambigua perché la bambina è afghana ma potrebbe non esserlo ci sembrava dire tutte queste cose con uno sguardo ora chiederei a Melania di reggere le prime righe del suo romanzo La lunga attesa dell'angelo allora sì questa è la prima pagina della lunga attesa dell'angelo il mio romanzo su Tintoretto e Marietta Tintoretto che sono padre e figlia pittore e pittrice e il capitolo si intitola Exit perché l'inizio della storia è l'uscita di Tintoretto da suo corpo e dalla vita si è fatto buio, la tenda è tirata, i lumi devono essere accesi, sento l'odore del fumo e della cera eppure non scorgo nemmeno un riflesso del chiarore che mi circonda l'ombra ha ingoiato il mio corpo, so che sono disteso e non mi incontro sento la mia mano e non la trovo, mi sono perso se sei da qualche parte non ti vedo nella stanza c'è qualcuno percepisco i suoi movimenti nello spazio, perfino le vibrazioni del suo animo ma so che non sei tu mi ascolti perché è a te che mi rivolgo ti ho chiamato, ti sto chiamando vieni, non voglio parlare solo a me stesso ecco, è un inizio molto coinvolgente e di grande impatto come riesci a catturare l'attenzione del lettore fin dalle prime righe di un libro? almeno per me come lettrice, quindi anche quando scrivo e cerco di fare la stessa cosa l'unica cosa che veramente sento che mi acchiappa dentro un libro è la voce cioè la voce dello scrittore che può essere affidata a un personaggio può essere ovviamente la sua nella quale sento vibrare una nota di autenticità, di verità e di necessità cioè che voglia raccontarmi quella storia e che quella storia abbia un senso per lui e questo è qualcosa che è difficile da dire così però in realtà col tempo ho letto tanti libri e mi accorgo è un po' come un appassionato di musica sente subito la nota falsa ecco, mi accorgo se c'è una nota falsa quindi se c'è qualcosa di fasullo nella costruzione di una storia se effettivamente lo scrittore non lo sta scrivendo perché è questione per lui di vita o di morte io sono fatto un po' all'antica in questo senso per me la letteratura è ancora così cioè non riesco a scrivere qualcosa che non mi coinvolga completamente che non mi strapi la pelle e allora per me questo è di solito il modo di far sentire anche a chi legge che quella storia ti dirà qualcosa e ti parlerà ed entrerà anche nella tua pelle naturalmente non avendo un trucco non so se è sempre vero non so se sempre mi riesce però è quello che per me è importante quando la scrivo Salutiamo Melania Mazzucco la ringraziamo per la sua disponibilità vi diamo appuntamento a stasera alle 21 in piazza Castello Grazie a voi sono felice di tornare a Mantua non ricordo questa forse la quarta o la quinta volta stavo dicendo prima sono venuta per la prima volta nel 2000 avevo i capelli rasati a zero avevo molti anni di meno ovviamente e mi sembrava una grande festa ed era la prima volta in cui come scrittrice partecipavo alla festa degli scrittori e dei lettori questo è lo spirito che la manifestazione ha mantenuto per 17 anni credo e dunque ogni volta che è possibile per me tornare torno con grande gioia